Eccoci qua, buongiorno 9e, 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 non ce l'ho ne dire, 9 e 34, no ma pensavo che stavi In diretta mattina con noi, buongiorno, 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 buongiorno Simone è arrivata la fine della settimana e noi come tutti i venerdì non vogliamo farci fatti nostri e andiamo a bussare alle porte dei VIP, ma che dico VIP, dei stra VIP, dei reali, alcuni eh, non tutti eh, non tutti, vabbè, però comunque persone che fanno parlare di sé e ovviamente lo facciamo con la nostra fantastica Roberta Damiata, buongiorno Ciao Roberta, buongiorno Stupenda presentazione, vengo da voi tutti i giorni, così mi dirate su di morale Ma noi saremmo felici se tu lo facessi Eh sì sì, anch'io tantissimo Senti Roberta Ci spettacoliamo tutti i giorni Senti Roberta, questa saga dei Windsor sembra non avere fine, anzi ci sono sempre colpi di scena che si susseguono Io ieri sera leggevo e facevo ma non ci credo, ma non è possibile, ma 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 che sta succedendo? Un'altra bomba Un'altra bomba, questa bella, bella grande diciamo e non so se vi ricordate una delle prime volte che sono venute qua, avevamo parlato del libro Sper e all'interno del libro Sper c'è di Harry ovviamente C'era questa rivelazione per cui Camilla aveva fatto un accordo con i media, con i media inglesi che sono terrificanti, cioè noi ci preoccupiamo del gossip nostro ma è proprio l'acqua di rose Per non essere attaccata dai media e quindi per cambiare un po' la sua immagine che dopo la morte di Lady Diana e tutto il resto come sappiamo non era proprio il massimo E questa cosa aveva fatto un po' scalpore, ma Harry che cosa ha fatto? Dopo aver detto sì io vengo all'incoronazione e tra l'altro apro e chiudo parentesi è stato messo in decima fila Ah, che smacco, che smacco No, 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 un po' in decima fila Sì, diciamo non so se avete presente quei matrimoni dove tu sei stato invitato e ti mettono vicino alla porta del bagno E tu dici ma lo sposo e lo spota mi avranno voluto oppure così un po'? È casuale È casuale In questo caso non è casuale No, in questo caso non è casuale, proprio al decimo posto perché ci sono proprio delle linee da seguire e comunque alla fine si ritrova proprio in fondo Detto questo, che cosa ha fatto? Il 25 aprile ha depositato, ovviamente non lui ma i suoi avvocati Un corposissimo dossier dove svela praticamente l'accordo con Mardoc che è uno dei più grandi magnati dell'editoria mondiale Che ha tantissimi giornali di gossip e tra cui il Sun E dove praticamente c'era appunto le prove di questo accordo che aveva fatto Carlo con i media Per non solo non attaccare ma favorire l'immagine di Camilla e fare in modo che l'opinione pubblica in qualche modo la amasse Cosa che è riuscita poi, tant'è vero che Harry scrive in questo memoriale molto lungo Che è stata una cosa che ci ha voluto tantissimo tempo per farla Ma ora Camilla gode del favore degli inglesi ed è così Tra l'altro all'interno di questo grandissimo dossier c'è anche una cosa che riguarda suo fratello William Perché loro nel 2012 avevano fatto un accordo sempre con Mardoc Che se fossero stati in qualche modo citati dalla stampa in maniera non adeguata Mardoc avrebbe dovuto fare le sue scuse pubbliche Esatto Cosa che non è successo con William Perché Mardoc sembra che abbia dato un milione di sterline a William per non fargli causa Quindi diciamo che all'interno di questa famiglia erano tutti d'accordo Tranne Harry che è stato appunto, se ci pensiamo, quello più danneggiato Perché qualsiasi cosa lui abbia fatto Kate bellissima, i figli di William bellissimi Quanto è carina Camilla, quanto è innamorata Camilla e tutto il resto Ma questa riprova del fatto quanti scheletri nell'armadio questa famiglia abbia Qui c'è proprio un ossario, non è proprio scheletri, c'è proprio un cimitero Senza Harry chiaramente tutto questo non sarebbe venuto alla luce Però diciamo io non condivido tanto, anche perché tra l'altro ha definito la matrigna Camilla Cattiva, malvagia, insomma io non sarei andato a questa incoronazione sinceramente Infatti comunque c'è un punto interrogativo molto grosso Perché dopo l'uscita di questa ennesima cosa, e questa è una cosa abbastanza pesante Perché se risultasse vera, questa è stata depositata dall'altra corte federale Quindi comunque se risultasse vera, ci sarebbe uno scandalo non indifferente rispetto a questo Perché significherebbe appunto che ci sono delle manovre E quello che viene scritto sui giornali, seppur di gossip Però comunque non risulta reale, quindi comunque cambi l'opinione delle persone e della gente Quindi si diceva che non è detto che lui possa non decidere all'ultimo momento di mancare a questa incoronazione Anche perché la decimo posto non è che Ma siamo tutti un po' perplessi Peraltro manca soltanto una settimana Sì, manca soltanto una settimana, hanno fatto le prove Hanno trovato la band, perché a noi non ci hanno chiamato La band è sempre avete una grande sorpresa Quando avete una grande sorpresa vuol dire che non c'è ancora la band Quindi voi ragazzi tenete in caldo, scaldate la voce Forse sì, qualche nome c'è Però manca un po' alla ciccia della questione Comunque sono tutti nomi in qualche modo non di grandissimo Risonanza Sì, soprattutto di grandissima risonanza come una band pop Dico, molto conosciuta al mondo Però su questa cosa indagherò e la prossima settimana vi dirò Se non ci vedrai la settimana prossima Volevo sapere, secondo te chi Carlo avrebbe voluto alla sua incoronazione come cantante? Sicuramente Adele Io penso che sia una grande Sì, una rappresentanza importante ad Adele per la sua voce Anche per come si presenta, per il fascino che emana Insomma io credo che Carlo Facendo una via di mezzo tra cantanti molto conosciuti a livello pop E cantanti ha sempre molto conosciuti Però a livello un po' più glamour Io penso che lui avrebbe voluto Adele Che però non va a questa cosa Ma lei è impegnata anche a Las Vegas Eh sì, Las Vegas e queste grandi artiste a Las Vegas Lo so perché mi è capitato di vedere Céline Dion che scendeva Ero a Las Vegas Ah che bello Sì, ero a Las Vegas e praticamente stavo aspettando un ascensore C'era questo ascensore di mezzo Ce ne erano tre perché è enorme queste hall Questo ascensore di mezzo e io schiacciavo il bottone per chiamarlo E non veniva mai perché era un ascensore privato Infatti a un certo punto si è aperto E ho visto un sacco di bodyguard E poi Céline Dion venire Io sono rimasta con la bocca un po' aperta E ho detto E così è nel senso che hanno queste suite Quando sono fissi a Las Vegas Hanno queste suite enormi Con il loro ascensore Ma io l'ho detto che dobbiamo fare una puntata su di te Roberta Chissà quante vite hai vissuto e non ci hai raccontato È vero, è vero L'ultima cosa che volevo dirvi Vedremo i Sussex domenica Domenica è il primo maggio Lunedì Lunedì Al Meet Gala Quindi si stanno preparando A New York? A New York, sì Saranno ospiti al Meet Gala Bello Sì, bellissimo Quindi anche di quello ci sarà da parlare Invocchiamoci Anna Maria anche noi No, noi dobbiamo fare le prove Perché mentre ci chiama Carlo Dove andare a cantare Devo dire senza proprio vergogna Porterei anche i caffè per entrare al Meet Gala È proprio una parata delle stelle più luminose È proprio una parata delle stelle Ma anche proprio visivamente Perché ogni anno c'è un tema E quindi ci sono questi abiti pazzeschi Ricordiamo l'anno scorso Kim Kardashian Che ha indossato l'abito originale di Marilyn Monroe Sì, quello bianco Sì, quello bianco L'ha dovuto un po' coprire perché nel lato B non c'entrava molto Però si è messa Un po' più formosa lei Diventa una famosa per quello Un leggermente più formosa Si era messa a dieta Una dieta pazzesca Beh, Naomi ci sarà Secondo me L'altra volta abbiamo affrontato Probabilmente Naomi ci sarà E sarà una delle star Delle invitate Devo vedere quale sarà il tema di quest'anno Perché ci saranno delle belle Ma le star americane si preparano mesi prima Per il Meet Gala Senti Roberta, se c'è Maretta Insomma, una Maretta importante direi Fra Carlo, Harry e Meghan Però da una parte c'è una cosa che ci fa Come dire, sorridere Ma in maniera insomma simpatica Perché sembra che Carlo invece vada molto d'accordo Con l'ex marito di Camilla E chi l'avrebbe mai detto? Esatto, ma non solo Queste famiglie allargate un po' strane Perché se dalla parte dei familiari di Carlo C'è appunto come dicevi tu Questa Maretta, queste incomprensioni Dalla parte di Camilla Sono tutti nuvole e unicorni Quindi sono tutti felici, contenti Che questa mamma abbia lasciato il papà Ti credo, scusa Eh beh, sta diventando regina Tanto è vero, tanto è vero Che il figlio Tom L'ha pubblicamente difesa Dicendo alle accuse di Harry Lei ha sposato l'uomo che amava L'uomo che amava, ovvero il principe Carlo Ci ha tenuto a avere tra gli ospiti del matrimonio Anche l'ex marito di Camilla Parker Ball Passate Esatto, quindi sarà alla cerimonia Insieme ai figli Laura e Tom E diciamo, io non so In questa forma di imbarazzo Che ci sarà Nel senso a vedere la tua ex moglie Che diventa regina Che diventa regina Ma forse avranno un rapporto molto stretto Una famiglia allargata La famiglia è molto molto coesa E le paggetti saranno appunto i figli E Giorgio? Sì, Giorgio per il principe Carlo E poi saranno per lei due dei nipoti della figlia Laura Perché lei è già nonna Lei è già nonna tre volte Gli sai che fila saranno? Perché se Harry sta in fila Quello me lo sono chiesto Io ho paura Io ho paura Ma secondo me potrebbero essere Nelle prime file Essendo dei parenti stretti della regina O quella che diventerà la regina Quindi comunque saranno sicuramente Tra le prime file Ovviamente ci stiamo avvicinando Al 6 maggio Al giorno dell'incoronazione Ma una cosa c'è da dire Carlo è riuscito nel suo intento Ovvero a diventare re Certo, c'è riuscito Era una sua ambizione Non tutti ci credevamo più Perché pensavamo appunto alla regina come immortale Però c'è riuscito Tra tante cose che non vanno Non ha lo stesso appeal della regina Però c'è riuscito Ma io credo più che Carlo Ci sia riuscita Camilla Perché lì è proprio stato Un'entrata gamba tesa E ha raggiunto la meta Proprio combattendo con ogni mezzo Anche la stampa Certo Che non è una cosa da poco E Londra ovviamente è pronta Immagino già il merchandising Che staranno facendo intorno a questa incoronazione Saranno già preparando i panini Perché appunto il giorno dopo dell'incoronazione Come avevamo detto già Una delle volte Ci sarà questo enorme picnic Dove tutti gli inglesi È un big lunch Si chiama Dove tutti gli inglesi parteciperanno Andranno nei parchi A fare il picnic Che è proprio il giorno Dove c'è il grande concerto Offerto dal In Night Park Ah che bello Dal Ray Immagino sarà tutto I alberghi Sanno tutti i peronotantissimi Ma sì Ovviamente Ovviamente Sono curiosa di sapere Devo vedere la lista degli invitati E se ci saranno dei reali italiani Reali italiani ovviamente tra virgolette Comunque chi degli italiani verrà invitato Sei il ruspo Piuttosto che qualche altra famiglia Che presenza Allora ci sono delle Ci sono delle famiglie Che sono sempre state invitate In questo caso Avendo ristretto molto la lista Degli invitati Perché prima erano 5.000 Oro sono 2.000 Io credo che verrà proprio Una cosa ristretta Cioè Invitato Sei sposato Sì vieni da solo Una cosa così insomma Veramente io avrei Solo gli direi interessato Io avrei 3 figli Lasciali a casa Ecco questo è un po' Non puoi Ma dici che gli inglesi Mangerebbero mai Una bistecca di salt bay Perché parliamone Perché insomma Il magnato delle bistecche L'imprenditore appunto Sembrano essere molto buone Ma C'è un ma Ma c'è un ma Allora intanto Ricordiamo chi è questo Questo furfantello Di cui Tra poco diremo perché Furfantello Ed è un Macellaio turco Che detto così È un po' inquietante Un po' Come cosa Lui è diventato famosissimo Perché ha creato Queste stick house Molto importanti Dove serve le bistecche Ricoperte di oro E personalmente A prezzi pazzeschi Interviene Taglia In maniera velocissima Proprio come fosse Uno show cooking Se vogliamo dire Queste bistecche E mette La cosa particolarissima È il sale Facendolo scivolare Sul braccio Non so se l'avete presente Fa scivolare appunto Questo sale Sul braccio Questa cosa Diciamo Questa trovatella Trovata piccolina L'ha fatto diventare Un Cioè Tutti i VIP Vogliono andare A mangiare La bistecca E vogliono andare A Vogliono averlo Al proprio tavolo Perché Gli tagli la carne E metta questo sale Ma Per andare Per rispondere Alla tua domanda Se vuoi andare A mangiarti Una cosa da lui Diciamo che O digiuni Poi per il resto Del mese Oppure Sei molto Molto ricco Perché è speso tutto Diciamo che Una bistecca Ricoperta d'oro Sono circa 1700 1800 euro E non è detto Che lui venga Al tuo tavolo Ma quell'insalata Famosa Che aveva anche l'oro Forse mangiava proprio Da Megan Se non sbaglio Eh Condita con l'oro Forse nello stesso ristorante Perché Avevo letto Nel condimento C'era anche l'oro Allora sto cercando di Allora Diciamo che Una insalata Senza oro Da lui Costa Senza oro Senza oro Fa ridere Sì me la porti Senza oro Perché non Non lo digerisco bene E costa Una cifra Intorno alle 200 Sterline Se vogliamo Che voglio dire Che uno entra E chi ha dei pane coperto Un'insalata Perché È così Però vi posso dire una cosa È veramente Tutta una cosa Assurda Perché Una volta Che ero a Dubai Ecco Comunque Comunque insomma Era stata invitata Ad una colazione E Praticamente Il dolce Che hanno portato Aveva questa Foglia d'oro E io ero molto curiosa Perché non l'avevo mai assaggiato No L'ho assaggiato E ho detto Beh tutto qua Cioè non sa veramente di Niente Niente Ecco Ma chi sa cosa ne pensano i nutrizionisti Se l'oro viene ben assimilato al nostro corpo Per tornare al Salt Bay Questo è un personaggio Che porta sempre gli occhiali da sole È un po' Istrionico Se vogliamo Ma è venuta fuori Tutta la parte scura Di questo personaggio La parte buia Di questo personaggio Che sembra Eccolo qua Che non è una bravissima persona No Non è proprio una bravissima persona Sembra sia un tiranno Tutti Tutti Diciamo Ex dipendenti Sì Tutti i dipendenti Che hanno lavorato da lui Comunque erano Terrorizzati Mentre Svolgevano I loro compiti Addirittura Molti di loro Dicevano Noi iniziavamo il turno Senza sapere Se poi Lo finivamo Perché proprio È uno terribile La cosa più brutta Secondo me È stata il fatto Che lui Ha attaccato Molto Le sue dipendenti donne Per esempio Ce n'era una In particolare Che era arrivata E ovviamente Si era vestita Come una cameriera E lui le ha detto No Devi vestirti con I tacchi a spillo E le minigonne Perché devi attirare i clienti Ora In questo periodo Dimmi tu Ovviamente La donna Non è più Un oggetto Per attirare i clienti Non mi sembra Il caso Di fare questo È una cosa Proprio spiacevole E stanno venendo fuori Veramente Tantissime cose brutte Su questo personaggio Che per un attimo Ritirare i remi In barca Ha deciso Di donare Un milione Duecentomila dollari Per il terremoto In Turchia Visto che lui È turco Ma sembra che Questa cosa Non è che abbia In qualche modo Risollevato La sua immagine Anzi Tutti quelli Che scrivono E dicono Potevi mettere Molto di più Visto che lui Ha ristoranti Veramente In tutto il mondo E sono sempre pieni E per avere una prenotazione Bisogna aspettare mesi Ecco Penso Questi dipendenti Denunciano anche Una bassa qualità Denunciano una bassa Un altro noccio Della questione Diciamo Che tutta questa farza In realtà Tutto questo sfarzo È una farza È una farza Non c'è il gioco di parole Praticamente Dicono assolutamente Che Questo oro Che si vede Tutta questa Questa atmosfera In realtà Sono Piatti e bicchieri Veramente Di infima qualità Anche Del cibo Non si è parlato Però secondo me Verrà fuori Anche qualcosa Sul cibo Però Diciamo che È tutta Un'organizzazione Fuffa Che viene pagata Solo L'immagine O l'idea Di quello Che tu stai Mangiando Ma poi In realtà Puoi mangiare Una buonissima bistecca Che possa 20 dollari 15 euro Sì no Ma appunto Non è questo La follia E spendere 1000 dollari Per una bistecca Ma tutto fa tendenza È così È diventato un marchio Per fare la pubblicità Io veramente pensavo Certe volte Quanto è stupido L'essere umano Ma mi viene da dire Quanto è ancora più stupido Il ricco essere umano Perché Voglio dire Come fai A farti togliere Solo perché Stai in un ristorante In questa quantità A Milano Credo che lo stia Per aprire E c'è una foto Anche con gli immancabili Ferragnez Che facevano Che facevano appunto Il gesto del sale Ma chiudendo Io ho una curiosità Non so se tu mi puoi rispondere Ma alla fine Ferragnez Stanno insieme Hanno superato la crisi Stanno insieme Superata la crisi È un po' forte È un parolone Noi non lo sappiamo Stavo vedendo L'altro giorno Che sembra Che ci sia stato Un accordo Tra i due Proprio per Come dire Sia superare La crisi Ma anche Avere un'immagine Insieme Di un certo livello Anche perché Tra poco uscirà La terza stagione Dei Ferragnez Esatto Quindi ci siano Delle regole Ben precise Che stanno seguendo Di comportamento Meno male Però ne parleremo Di questa cosa Tra l'altro Il nido d'amore Nuovo è quasi pronto Dov'è? Scusate È sempre a Milano Ancora Insomma foto Non sono state rivelate Fatto sta che Chiara Ferragnez Ha chiesto Ai suoi follower Consigli sull'arredamento Eh vabbè È su questo Ora io non so Quanto poi Lei ha fatto vedere Delle immagini Però c'era Una casa Che era un cantiere Praticamente Ma i volumi Della casa Erano impressionanti Erano tanti Ne parleremo Diciamo Tanti tanti volumi Ma noi Seguiamo sempre a tutti Gioia E felicità E godetevi la vita Se potete Finché potete Finché potete Godete Assolutamente Roberta Buon weekend Tornerai con noi Ovviamente La prossima settimana Con le novità Mi sono già puntata Alle due o tre cosine Che dobbiamo Sviscerare E grazie a voi Come sempre Buon weekend A voi E ai telespettatori Grazie Grazie Alla prossima settimana Alla prossima E noi ci vediamo Tra pochissimo A tra poco A tra poco E noi ci vediamo E noi ci vediamo